...vissuti, rivissuti... No, ma tu sei molto brava perché riesci a far entrare la discussione in uno scenario che Avatar è in confronto... No, è stato quel signore là, Salvatore Pozzolino! Salvatore c'è una sua... Tanto l'Alvatore è una sua linea! Salvatore è una sua linea, quindi bisognerà vedere se io salirò prima sul suo carro, lui sul mio. Questa è la sfida dell'anno. Vedremo. Io continuo ad andare a pescare. E poi diciamo che siamo noi giornalisti che possiamo saltare le pante. È vero! No, ma c'è... Vabbè, io mi trovo... Figurati... Io credo che tutte le volte che una società dell'importanza della Juve cambia l'allenatore, dovrebbe intanto scrivere nel comunicato siamo stati sconfitti, abbiamo sbagliato, siamo costretti a cambiare l'allenatore. Spero che la storia di questi anni ci abbia insegnato qualcosa. Ad esempio, il fatto che noi abbiamo mandato via Ciro Ferrara che aveva un certo tipo di posizione in campionato è stato trattato come l'ultimo dei fessi dall'opinione pubblica, qui compreso, e poi alla fine abbiamo cambiato l'allenatore e non è successo nulla di nuovo. Allora, questa idea che in Italia, alla seconda giornata, alla seconda giornata, si discuta del cambio dell'allenatore, è, ripeto, è chiaro che siamo nell'ambito di una comunicazione, siamo nell'ambito di una comunicazione... No, ma tu hai detto, Lippi si tiene buono... Io confermo tutto quello che ho detto, ho detto che secondo me Lippi si mantiene buono per la Juve. Io dico, spero che la società abbia la forza, in virtù anche di un minimo di risultati, di essere coerente con il progetto che ha intrapreso. Rendere Del Neri più colpevole dei giocatori mi sembrerebbe una follia in questo momento, perché a Del Neri... Noi ad alcuni giocatori gli abbiamo dato 3-4 anni di tempo per dimostrare di essere da Juve, un allenatore, spero che gli si dia, 8-9 mesi. A un allenatore, a un presidente, a un direttore generale, perché vedo che c'è questa tendenza adesso anche molto sottile da parte di Salvatore di dividere la proprietà dal direttore generale, tra un po' lo divideremo dal direttore sportivo, dal direttore sportivo... L'anno scorso queste sottigliezze non le sentivo. Era colpa, naturalmente, di volta in volta, ho bisogno nel cano, del sosecco... Allora, visto che puoi andare a spaccare il capello in quattro... Adesso, ma guarda, io non mi spacco il capello in quattro, mi ho perso in quattro. Allora, io ti dico che ti puntualizzo dal mio punto di vista. Però questa distinzione tra Agnelli e Marotta fa bene al nostro popolo. È quello che noi vogliamo sentire. No, 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 non ti guarda, ti dico. Io ho detto che l'IPI si mantiene liquido perché... Liquido? Liquido nel senso di... Salvatore! No, io voglio vedere una volta che tu riesci ad avere una posizione diversa da Luciano Moggi. Pietro, intervieni qua. Una volta, scusate. Una volta. Cosa c'è da Moggi? Una volta, perché quello che leggo di Luciano Moggi lo sento qui. Lo sento qui, in maniera proprio ortodossa. Due settimane fa, la campagna acquisti era così e così. Adesso la campagna acquisti è un dramma. Io l'ho sempre criticata. È un dramma. È un dramma. Vatti a sentire l'altra volta che sono venuto. E mi sono andato anche a leggerti. Sono andato anche a leggerti. Ti dire ai tifosi, state tranquilli, stanno lavorando bene, eccetera. Dopo due settimane ha parlato Luciano Moggi e è cambiata di idea. Ti sbagli, non veramente. È va bene così. Allora, fammi puntualizzare questa cosa qui su Del Neri perché è molto semplice. In questo caso, io non ti sto dicendo che se la Juventus va male è colpa di Del Neri. Ok? Io ti sto dicendo perché? Perché probabilmente, anche se Del Neri incomincia a fare i suoi schemi, eccetera, eccetera, la sua fase tattica, la difesa, il problema è che se c'ha, ripeto, rape, non può cavare il sangue dalle rape. Il problema è un altro. Il problema è che se la squadra dovesse andare male perché la sua cifra tecnica è bassa, alla fine il capo espiatorio sarà sempre e comunque l'allenatore perché è la legge del calcio questa qua. Ok? Detto questo, io, e poi andando a leggere sul nostro sito, sul mio sito, sul mio, nel senso di nostro, abbiamo fatto una critica alla campagna acquisti della Juventus in tempi non sospetti sin dal primo giorno. La prima operazione che abbiamo criticato è stata quella di Martinez che noi riteniamo inspiegabile sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico. E poi Marotta ce lo dovrà spiegare per chi ha preso Martinez a 12 milioni di euro. Ma quando te lo deve spiegare siamo a posto. Luciano Moggi, fidati. Ci deve chiedere scusa. No, no, no. Quindi va già bene, abbiamo fatto un passo in avanti. Salvatore, abbiamo fatto un passo in avanti. Sono contento. Quindi, Luciano Moggi può dire quello che vuole. Noi abbiamo delle posizioni dipendenti da lui e questo non credo che ci siano dubbi. Non siamo al libro paga di nessuno. Io sono al libro paga di aiuto. Io non sono al libro paga di nessuno. Non sono al libro paga di nessuno. Non sono un giornale che ha bisogno di sostenere la società perché altrimenti non prende la pubblicità da terzi. Quindi noi abbiamo una linea che è basata sui fatti, su quello che vediamo. Che coincidente. Quello che vediamo è una società che va a due velocità, che su Calciopoli sta rispettando quello che è la dignità e l'orgoglio del bianconero, e che sulla classe tecnica, sulla classe esportiva, siamo una iuvinese. E questo lo dico forsemente. Ricordalo però per tutto l'anno. Ricordatelo. Spero di essere, ovviamente, da Juventino, spero di essere smentito. Da Juventino spero di essere smentito.